Una storia italiana, anzi un'alba italiana, quella che vi racconto in questo nuovo romanzo, La circonferenza dell'alba, perché dopo avervi fatto viaggiare un po' per l'Europa, prima con quattro tazze di tempesta in Provenza e poi sull'isola di Gozo con due sirene in un bicchiere, avevo voglia anch'io di tornare a casa e questo romanzo è nato proprio come un mio ritorno nella mia terra, nel mio paese e anche nella mia casa di famiglia dove sono cresciuta e dove in qualche modo mi sono formata. Infatti mi piace chiamare questo romanzo quasi come un romanzo di formazione al contrario, in cui arrivati a un certo punto della propria vita si guarda indietro e si vorrebbe ripetere tutto in maniera differente, ma non si può. Quindi lo spunto è nato da un'esigenza personale e che poi è diventato ovviamente una riflessione che spero molti di voi potranno condividere, apprezzare, magari essere d'accordo in linea, magari invece no, perché poi ognuno ha fatto il suo percorso e la sua circonferenza in questi anni. La storia è ambientata sul lago di Como, nell'alto lago di Como, quindi c'è ancora dell'acqua perché sapete che è un elemento che a me piace particolarmente, quindi ci sono barche, tuffi, bagni, ci sono spiagge, ci sono soprattutto sassi che troverete nel romanzo, ma non voglio svelarvi di più, però insomma sicuramente avremo modo di ragionare anche sulle tracce che ci lasciamo dietro di noi nei nostri anni, nella nostra vita e su quelle con cui poi andiamo a fare i conti, insomma, quando diventiamo più maturi o più adulti. È la storia di Giorgia, una donna che ha vissuto moltissimi anni all'estero, anche in paesi molto lontani, a contatto con delle esperienze umane drammatiche, perché fa la fundraiser per ONG e quindi ha questa sua esperienza di vita e ritorna a casa per svuotare la casa che deve essere messa in vendita e da lì parte un po' tutto il nostro racconto, quindi dal suo incontro con quello che è rimasto di lei in quella casa e con le persone che sono rimaste nella sua vita e che le persone anche che torneranno o forse le nuove persone che arriveranno nella sua vita. E in questo ritorno a casa c'è anche un ritorno a se stessa in qualche modo, quindi alle proprie memorie, ai propri vissuti e forse anche una nuova interpretazione di quei vissuti. E quindi la mia idea era che Giorgia potesse risvegliarsi in un'alba diversa da tutte le altre. L'ultimo sasso ferì la pelle del lago e vi penetrò, tagliando la superficie in un reticolo disordinato di rughe e bluastre che la brezza da nord subito lisciò. Si inabissò senza nemmeno il rimbalzo. Giorgia levò il viso verso il vento e inalò l'essenza acre ed elettrica del temporale in arrivo prima di incamminarsi verso il molo. I ciottoli, sotto i suoi piedi nudi, crocchiarono come biscotti secchi e biglie di vetro costretti nello stesso barattolo. Nonostante avesse conosciuto manutenzioni migliori, l'assito del pontile era solido e asciutto, quasi tiepido. Lo percorse fino in fondo e si sedette sul bordo con le gambe a penzoloni, fissandone il riflesso nello specchio liquido e indifferente sotto di sé. Un rimbalzo porta buone notizie, due tanta fortuna, tre promettono felicità, le ricordò la voce di suo padre nella sua testa. E quattro? Si sentì domandare, nonostante conoscesse la risposta. Quattro è il numero dell'amore. Con la punta dell'indice sfiorò la lingua verde del muschio che era germogliata umida tra le assi. L'estate l'aveva seccata e ridotta a un brandello, ma adesso, con l'autunno, avrebbe riconquistato il cuore del legno nell'unico modo possibile, baciandolo. Nella circonferenza dell'alba, come anche nei miei altri romanzi, la casa è una dei protagonisti, anzi la protagonista. In questo caso si tratta di una villa sul lago di Como, una villa che è un po' un contenitore della vita di tutti i personaggi del romanzo. Credo che tutti, mai come questo anno, abbiamo sperimentato il ruolo e l'importanza della casa nelle nostre vite, perché è stata per noi un rifugio, una protezione e forse è stata anche una prigione a un certo punto. È diventato un po' un limite, un posto da cui andarsene e da cui uscire. Ed è questo che mi piacerebbe invitarvi a fare con la circonferenza dell'alba, a riscoprire il ruolo della casa come il luogo degli affetti, dell'intimità, della riscoperta anche di noi stessi, senza dimenticare però che c'è un mondo là fuori che ci aspetta e che l'alba ci aspetta sempre, che è qualcosa che dobbiamo vedere con i nostri occhi e respirare magari davanti al mare.